Ahah! Ciao! Meglio sempre stare in sicurezza nella vita. Benvenuti ragazzi! Oggi iniziamo una nuova avventura. Vi farò vedere un po' di video, inizieremo una sorta di schooling tramite YouTube, piuttosto che vi inviteremo a fare lezioni dal vivo. Non so se sarò in grado, ma ci proveremo. Avremo l'aiuto di lui, Mr. Drone, con super effetti speciali. Faremo immagini spettacolari dove vi faremo vedere i trucchi e la magia dell'andare in moto in pista. Almeno, non è legge quello che vi dico io, però spero vi possa servire. Godetevi il video, farò come lo psicologo. Ora vi farò vedere, ascolterò i vostri commenti, ma non vi dirò nulla. Ok, adesso sono tornato in assetto da battaglia. Andremo a vedere dei video con il mio amico collega lui, forse lui. Federico carica solo. Guarderemo diverse tecniche e stile di guida. Poi piano piano ci andremo dietro, dove andremo a vedere anche posizioni in sella, linee da tenere, tante piccole cose che cercheremo di divertirci comunque, dai. Occhiale pulito. Guarderemo diverse tecniche e stile di guida. Adesso invece andiamo a vedere un piccolo assaggio di come vorrei instaurare un rapporto con voi in pista, seguirvi, starvi davanti, farvi vedere, cercare di correggervi per migliorarmi. Questi erano dei miei amici che li ho usati un po' come cavia. Qui vedete anche le facce sorridenti. Sorridenti ho detto, non belli, sorridenti, capito? Questi sarete voi dopo aver lavorato duramente tutta la giornata. Stremati! Ok ragazzi, oggi vi ho proprio dato un piccolo antipasto. Volevo solo vedere se poteva piacervi il format. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto, taggate i vostri amici, fatemi richieste su cosa vorreste vedere, affrontare, discutere nei prossimi video, dove saranno un po' più corpuosi. E basta. Per adesso vi saluto e vi ringrazio. Io vado a fare un giro con lui, che ormai è una malattia.